buongiorno oggi abbiamo fatto spese al brico per qualcosa della roba queste non seguono tutti i card ma fungeranno da messere quelle sono quelle nuove adesso poi ne metterò una lì faremo un angolo lì in mezzo tutto bene qui qualcosa adesso non mi vedo più davvero e probabilmente ho preso così questi cazzilli qui che sono tipo degli stringi tubi in realtà tenevano il filtro dell'aria ma adesso vi faccio vedere che è successo in pratica l'altra volta girando in pista se vedete non c'è niente che tiene questo filtro quindi se io faccio così si leva ora a parte che ero in una posizione scomoda ed è solo rimesso ok però con le vibrazioni del card in un non niente si vanno a staccare quindi dato che non sapevo la misura ne ho presi due di diverse misure con messi anche altre misure qua dentro un'altra torcia che la userò un po per farci lavori un po per illuminare e vabbè poi pile viti per le staff insomma poi poi ci devo fare delle cose l'altra volta non vi aggiornato sulla situazione roba della macchina la situazione è questa quindi cosa è successo praticamente questa piccola vittina qui non esce non entra non esce non può né scendere né salire e quindi è rimasto qua io adesso quando chiudo la portiera sta là fisso quindi dato che è brutto tenerlo lì da solo le opzioni sono due o sfondo tutto la vite eccetera e la togliamo oppure cosa molto più probabile metto le barre h24 allora raga ti lasciando che ho fatto la parade e dell'acquisto del black friday allora oggi è sabato 25 come ce l'avamo lasciati l'altro giorno oggi c'è la gara di cali infatti sono appena arrivato al centro sportivo di cologno non so bene cosa riuscirò a registrare non so bene cosa riuscirò comunque a riprendere se non appunto i vari set del cali e niente ci ci becchiamo dopo nati in un luogo sempre diverso dato che i blog sono itineranti la gara si è conclusa è stata sabato 25 abbiamo fatto un buon risultato questa era la seconda tappa e siamo arrivati terzi ovviamente non soddisfattissimo del risultato in generale sotto un altro punto di vista soddisfatto perché per ora ogni gara a cui sto partecipando bene o male il podio c'è sempre quindi già quello non è una cosa contata infatti sono già sedici solo di questo ma volevo analizzare un attimo con voi quindi adesso faccio partire il primo set qua impressione parto dalla planche che aveva tenuta la pressata quindi qua fin qui non c'è niente da dire tutta questa prima parte qua con il primo e il secondo chiaramente in verticale senza penalità qua ho dovuto fare 4 secondi di full planche lo stop un attimo perché il regolamento dice che per fare per far valere sia di isometria che una dinamica push up e debba fare due secondi per far valutare l'iso ma prima di ogni dinamica ho due secondi da fare e poi mi sono sparato una strada da 5 secondi perché c'è un piccolo bonus quindi tutto questo primo blocco niente vabbè qui chiamo un po' il pubblico front one arm totalmente improvvisato è andato anche bene qui nel primo set ho fatto una planche straddle su sbarra che buona ma ero basso quindi molto probabilmente penalizzato front lever touch niente da dire anche qui i due secondi prima del pull up in questo punto qui io faccio quello che per me è un maltese solamente che il parametro in questa gara per fare sì che il maltese venga considerato è la spalla a livello del polso se vediamo qui ve lo faccio ripartire il video in questo in questa scritta qui ve la stoppo la spalla non è totalmente in linea se vedete manca tipo probabilmente tanto così 4 o 5 centimetri una roba del genere e quindi questo è stato conteggiato come maltese penalizzato perché non è totalmente in linea se poi andiamo avanti vabbè qui ho finito di fare tutto quindi poi vado avanti agli anelli perché ve lo spiego in questa gara qui ci sono i bonus che vengono dati se si fanno tre skill di fila su ogni attrezzo quindi io ho fatto tre skill di fila su parallele tre skill di fila su sbarra singola una skill staccata sulle parallela terra perché si può fare e tre skill di fila sui anelli inoltre se fai tre attrezzi su quattro quindi gli attrezzi totali sono parallele sbarra anelli e terreno io ne ho fatti tre se ne fai tre su quattro agli tre punti bonus quindi l'ultimo pezzo del set verrà eseguito agli anelli non contentissimo perché come vediamo qui la planche bassa ma perché non alleno io anelli ma l'ho buttata dentro per fare un po di punti poi vabbè qui si vede proprio alla fine del set che è andata tranquilla e questo primo set mi ha portato ad essere di 0.1 alle qualifiche il primo in classifica il secondo set ve lo faccio partire quindi qua l'inizio uguale quindi l'ho mantenuto uguale cambiando qualche piccola cosa questo pezzo qui comunque rimane lo stesso perché faccio la planche press e due instant push up qui mi sparo anche il secondo scendo sempre controllando la full planche e facendo la stessa esometrica da quattro per farsi che mi conteggino due cose sempre solita straddle che qui vi devo dire questo primo blocco me lo sento molto stabile ma arriviamo alla parte critica allora in realtà questo front one arm qui è stato meglio del primo non so poi che pianeta mi abbiano dato qui dato che questa era la finale ho dovuto dare il massimo quindi se vediamo si parcia e tiro su in qualche modo una full planche però una un po bassa front lever touch come all'inizio il front lever pull up anche qui va bene in questo punto qui adesso ve lo stoppo dato che nel primo set mi avevano detto che il maltese fatto non era maltese perché mancava una piccola escursione ho detto sai che c'è mi faccio tenere le parallele le metto un po più larghe e provo a fare quello che è un vero maltese però adesso come come vedrete l'ho tenuto ma non tenuto perché qui stacco però non è un'isometria e quando stacco io ho forse un secondo in cui mi fermo tutto il resto è in caduta quindi purtroppo questa cosa qui mi ha portato a prendere una pianeta molto più grande qui invece poi anelli solita roba la planche non è stata comunque il massimo perché come vedete ho le gambe basse l'isometria era al limite e poi tutto il pezzo in fronte cosa voglio dirvi voglio dirvi che semplicemente ci sono stati un po di errori di valutazione nel senso che se io avessi fatto pari pari il primissimo set forse perché uno non può me se ne è sicuro quindi facendo il maltese con la spalla leggermente più alta e quindi non essendo un maltese effettivo magari mi davano comunque dei punti di punti in più e potevo arrivare secondo ero sui allenamenti perché devo devo pulire o prendere delle cose poi vedrete vedremo poi molto probabilmente nel box prossimamente perché non voglio far finire qui il weekly vlog ma voglio portarvi con me in box per montare quelle due cosucce che avete visto all'inizio video ci si becca al box e buonasera allora ci eravamo lasciati dopo tutto il commento gare eccetera ci saremmo rivisti in box quindi ci eravamo lasciati con questi due signorini dovrà vedere quale fitta il filtro dell'aria non ho il senso delle misure ho sbagliato completamente misura del laccetto cioè capite che io volevo mettere questo qua per tenerla altra cosa dobbiamo dobbiamo montare le sbarre con tutte le sistemazioni del caso tutte le cose che c'è da fare nel box o meglio come avete visto ho cannato a comprare gli stringi tubi quindi il lavoro della sostituzione lo faremo la prossima volta per i propri motivi ho segnato sulla parete quindi la sopra tutti i puntini per andare a forare la parete quindi mettere una bella mensola che possa dare spazio ovviamente ai ringhi gomme così evito di tenerli in mezzo ho messo in storage le batterie così almeno evitano di consumarsi dato che sono batterie di ripo e quindi per oggi tutto la prossima volta dobbiamo sostituire lo stringi tubo e poi in realtà con calma durante le vacanze di natale mi sa che smonterò le carene e le rifacciamo ma quello poi le vedrete niente secondo qui questo vlog di questo weekend in cui ci sono state un pochino di cose da fare tre cui la gara tre cui queste cose qui le barre sono state montate quindi per ora tengono vediamo se poi accadrà qualcosa e niente che dire fatemi sapere se magari volete vedere dei contenuti specifici nel canale niente ci becchiamo alla prossima